TecNiche vi presenta un articolo unico e rivoluzionario per contrastare gli effetti del calore nelle vostre attività sportive e lavorative di vario genere. I laboratori TecNiche hanno scoperto, messo a punto e brevettato uno speciale polimero che a contatto con l'acqua la assorbe rapidamente e la rilascia molto lentamente attraverso un semplice processo evaporativo che fornisce circa otto ore di incredibile fresco. L'uso è molto semplice ed avviene in tre fasi. Bagna il tuo capo TecNiche immergendolo in acqua fredda da 1 a 3 minuti a seconda delle dimensioni. Strizza delicatamente con pressioni e senza torcere il capo per eliminare l'acqua in eccesso. Indossa il capo e stai fresco per ore senza bagnarti. Ciò è possibile grazie al tessuto interno che è water repellent e non permette la fuoriuscita dell'acqua sotto forma di gocce, bensì solo sotto forma gassosa e a lento rilascio. I prodotti TecNiche sono riutilizzabili tutte le volte che si vuole, sono lavabili e non tossici. Immaginate ora in quante situazioni sportive e nonna della vostra vita questo fantastico prodotto può esservi utile. Per esempio pensate a running, jogging, footing, insomma qualsiasi tipo di corsa, bicicletta da corsa, mountain bike e city bike. Calcio Calcio Golf Ippica Tennis Motocross Moto e scooter Ma non solo sport, pensile interno che ci sono quelli che si possono fare, sono più svariate attività di outdoor oppure lavorative. Tutto questo con sole tre semplici azioni. Bagna il tuo capo Tecnici immergendolo in acqua fredda da 1 a 3 minuti a seconda delle dimensioni. Strizza delicatamente con pressioni e senza torcere il capo per eliminare l'acqua in eccesso. Indossa il capo e stai fresco per ore senza bagnarti. E ricordati con Tecnici sei sempre fresco. Grazie. Grazie. Grazie.